sta arrivando la tanto attesa erede della mirrorless sony dedicata ai videomaker a breve potremo acquistare la 7s 3 c'è una cosa però di questa nuova sony alfa 7s mark 3 che mi ha meravigliato e non poco la notizia in sintesi è questa il 28 luglio sony ha presentato ufficialmente la nuova a7s mark 3 che l'erede della 7s mark 2 ed è forse una delle fotocamere più attese e più anticipate che si conosca perché più e più volte si è pensato che sony facesse uscire questa macchina che però è arrivata proprio oggi vediamo prima le specifiche e poi facciamo qualche considerazione siamo sul sito di sony appena aggiornato e subito noti la presenza di uno schermo che si ribalta lateralmente e frontalmente una caratteristica che i videomaker hanno chiesto a gran voce e che finalmente è arrivata anche su un modello di fascia alta le caratteristiche principali sono queste che vedi con il 4k a 120 fotogrammi al secondo vediamo tra un attimo che si tratta di un'ottima implementazione di questa specifica è finalmente arrivato un codec 422 a 10 bit anche questo chiesto con grande vehemenza a sony c'è un nuovo processore che si chiama beyond xr e in realtà ne sono stati implementati due per migliorare la potenza di calcolo e dunque arrivare a questi 120 fotogrammi al secondo il sensore è nuovo di zecca ha ovviamente i punti per la messa a fuoco rilevazione di fase affogati nel sensore stesso e una risoluzione di 12 megapixel può sembrarti una specifica strana ma ti ricordo che la caratteristica principale delle sony a7s è quella dell'elevata sensibilità alla luce e questo comporta risoluzioni ridotte il sensore è comunque di tipo retroilluminato quindi con la circuiteria necessaria alla lettura delle immagini che si trova dietro ai fotorecettori anziché davanti come normalmente avveniva perché ormai è diventato lo standard ma su un sensore di risoluzione così bassa è una caratteristica nuova ti ho già detto dei processori che sono due e sono anche nuovi che ci permettono questo 4k 120 fotogrammi al secondo questa caratteristica viene implementata leggendo praticamente tutto il sensore senza saltare pixel e dai test che ho visto la qualità a 4k a 30 24 60 120 qualunque frequenza di fotogrammi è la stessa elevatissima e non subisce quegli artefatti che normalmente vediamo quando si sale così tanto con la frequenza dei fotogrammi oltretutto rispetto a tante altre sony quello che è cambiato è che anche il full hd è di buona qualità e oltretutto arriva a 240 fotogrammi al secondo quindi una bella implementazione anche i codec sono stati aggiornati e adesso abbiamo l'h265 che è quello che permette anche il 10 bit 422 oltretutto sony ci lascia la possibilità di scegliere tra il 422 e il 420 ti sembra una stupidaggine ma la cosa è estremamente importante perché il 422 attualmente non viene decodificato in hardware da praticamente nulla e di conseguenza è estremamente complicato da gestire in post produzione il 420 che per dirti alla scelta che ha fatto sia fuji che panasonic invece ha evidentemente un sottocampionamento del colore peggiore ma viene decodificato in hardware da molte schede grafiche e di conseguenza è facilissimo da montare anche se in h265 quindi si riesce ad avere compattezza e qualità uniti alla possibilità di montare con facilità sony ha anche aggiunto una modalità o l'intra quindi con ogni frame che conserva tutte le informazioni senza compressione del movimento come si dice e questo facilita di nuovo il processo di editing con l'effetto collaterale di avere file enormemente più grandi e dunque la necessità di avere data rate superiori in scrittura file più ingombranti e tutto quello che ne consegue la sensibilità arriva a livelli incredibili ma soprattutto quello che mi ha colpito è che questa macchina è ampiamente utilizzabile cioè fornisce risultati di grande qualità a sensibilità completamente assurde come 25.000 o 50.000 iso ma anche 100.000 iso ancora i colori sono estremamente precisi fedeli immagini utilizzabili a sensibilità assurde il che comporta che con questa macchina e un obiettivo luminoso riesci a vedere nel mirino nel viewfinder delle cose che a occhio nudo sono completamente invisibili l'eslog 3 che è supportato da tantissime macchine sony in questo caso è stato conformato a quello utilizzato anche nelle macchine professionali e in quelle per il cinema sempre di sony e oltretutto finalmente con il 10 bit 422 o 420 è anche diventato utilizzabile senza artefatti la sensibilità di base è stata abbassata a 160 iso con l'eslog 3 rendendo molto più semplice l'utilizzo anche in esterni la sony a7s mark 3 ha un'uscita hdmi a dimensione intera in grado di veicolare un segnale a 16 bit raw in 4k dc ai fino a 60 fotogrammi al secondo e questo mentre sta registrando internamente in qualunque altro formato il che è una caratteristica che credo sia quasi unica a breve atomos dovrebbe annunciare un aggiornamento firmware dei suoi registratori per supportare questa nuova caratteristica l'autofocus di sony funziona estremamente bene e in questa macchina non c'è motivo di pensare che funzioni peggio è possibile toccare lo schermo per mettere a fuoco e tutte quelle belle cose che sony ci ha già abituato in questa macchina sono state ulteriormente migliorate il sensore è stabilizzato sui cinque assi e sony afferma di aver ridisegnato questa funzione nella pratica da quello che ho visto la stabilizzazione fisica quindi muovendo il sensore funziona praticamente come prima un pochino meglio specialmente nelle foto funziona verosimilmente meglio nel video cambia poco ma quello che è cambiato è che questa macchina applicando un leggero crop fa un po quello che fa la zv1 quindi usa i giroscopi destinati alla gestione della stabilizzazione del sensore per eseguire una stabilizzazione elettronica e questa funziona molto molto bene in maniera se vuoi simile a quella della zv1 diciamo più che utilizzabile non a livello dei migliori la registrazione dell'audio è al top con la possibilità di registrare fino a quattro canali direttamente in macchina è stato implementato un nuovo sistema di raffreddamento passivo e dai test che sono stati condotti parrebbe che questa macchina non si scalda neanche in condizioni estremamente svantaggiose anche il settore dei modi è leggermente cambiato e adesso è possibile decidere quali impostazioni la macchina deve ricordare o dimenticare passando da foto a video quindi è possibile far memorizzare alla macchina un'impostazione per le foto e una completamente diversa per il video che invece è una cosa che con tutte le altre sony è una gigantesca seccatura perché passare da foto a video è un grosso grosso fastidio devi regolare un sacco di cose e magari qualcuna te la dimentichi per quanto riguarda l'aspetto fotografico si tratta di una macchina a mio avviso piuttosto strana la sensibilità iso elevatissima ovviamente è un grosso punto di forza ma la risoluzione è un pochino scarsa per un uso fotografico a tutto tondo certo è che quando c'è poca luce è la macchina che vorrei avere con me e questo sia per le prestazioni dell'autofocus che sono praticamente impareggiate da qualunque altra macchina in condizioni di scarsa illuminazione sia appunto per la pulizia dell'immagine a iso completamente assurdi difficile a credersi ma sony ha completamente ridisegnato il menu ha ascoltato le tante lamentele e ha fatto anche un bel lavoro c'è ancora qualcosa di tradotto in maniera totalmente incomprensibile ma l'efficienza e l'organizzazione è nettamente migliorata il menu è completamente touch è possibile utilizzare anche i tasti funzione sullo schermo per settare i vari parametri sempre con il tocco del dito e oltretutto abbiamo l'implementazione di due slot per schede sia sd che cf express di tipo a quindi non quelle di tipo b normalmente disponibili è un modello nuovo che arriverà a breve sul mercato sony già le produce che ha le stesse caratteristiche di prestazioni delle cf express ma un formato più piccolo fisicamente e questo permette questa doppia compatibilità oltretutto questa nuova sony è in grado di girare con praticamente tutti i codec tranne un paio di eccezioni sulle normali schede sd chi l'ha provata racconta meraviglie del nuovo viewfinder che ha una risoluzione ancora mai vista ma soprattutto un angolo di visione e un ingrandimento di 0 9 per che praticamente dando l'impressione di essere affacciati alla finestra queste le parole di chi l'ha provata non ho ragione di credere che non sia vero perché ho provato il viewfinder delle nuove panasonic che ha una risoluzione decisamente inferiore e un ingrandimento leggermente inferiore e già era assolutamente incredibile mi dirai che ci sono un sacco di cose che dovrebbero avermi meravigliato ma ce n'è una in particolare che veramente mi ha lasciato perplesso prima di vedere questo metti un bel like a questo video iscriviti al canale usando il pulsante rosso qua sotto ma soprattutto schiaccia la campanella e attiva tutte le notifiche in modo da non perdere i prossimi video dai anche uno sguardo al mio negozio su amazon ci sono tanti articoli tutti commentati che ho provato personalmente puoi acquistare tranquillo evitando delusioni a te non costa neanche un centesimo in più e dare una mano al mio canale a continuare a realizzare contenuti gratuiti proprio come quello che stai guardando ti rendi conto che la comparazione di questa nuova sony a7 s3 con le nuove canon r5 ed r6 è praticamente indispensabile e quello che emerge è che abbiamo un approccio di sony completamente diverso a quello di canon e se vuoi questa nuova a7 s3 potrebbe in qualche maniera competere con la canon r6 che però è una macchina se vuoi molto più versatile perché ha un sensore di risoluzione più elevata e questo permette con i suoi 24 megapixel di utilizzarla molto più serenamente per lavori fotografici certo è che la r6 non hai 120 fotogrammi al secondo in 4k e questo chiaramente crea un'altra differenza perché se hai bisogno di uno slow motion così accentuato con la r6 non riesci ad ottenerlo lo potresti ottenere con la r5 che però in 4k ha una qualità decisamente inferiore a quella di questa sony in particolare a 60 fotogrammi al secondo a 30 fotogrammi al secondo sono pressoché comparabili con un leggero vantaggio della canon ovviamente dove la canon vince a mani basse nell 8k il problema dove nasce è che le canon eos r5 ed r6 si surriscaldano e si surriscaldano a livelli piuttosto limitanti rispetto al normale lavoro ho visto delle prove e parlato con delle persone che l'hanno utilizzate entrambe e in particolare la r6 che per me era un po la macchina su cui stavo tranquillo cioè che avrebbe dovuto funzionare in maniera ineccepibile e purtroppo non è così si surriscalda ti impedisce di lavorare in circostanze assolutamente comuni per quello che per esempio la vita di un documentarista quindi scattare qualche foto poi lavorare col video e girare per tempi anche piuttosto lunghi perché se stai facendo un'intervista specialmente con chi non è abituato a parlare davanti alla telecamera ti capiterà di girare a lungo e la r6 non è in grado di farlo la r5 meno che mai e soprattutto hanno tempi completamente assurdi per raffreddarsi ho sentito gente che ha provato con i cubetti di ghiaccio con i ventilatori con qualsiasi cosa tilta se ne è uscita con un accessorio per raffreddare questa macchina ma si tratta evidentemente di pagliativi oltretutto queste nuove canon hanno un problema serio di consumo della batteria e anche questo ne limita se vuoi l'usabilità la sony a7 s3 riesce a girare oltre due ore e mezza di video in 4k a 24 fotogrammi al secondo con una singola carica di batteria e senza mai fermarsi perché non ha il limite software ai 30 minuti e in 4k a 30 oa 60 fotogrammi al secondo non si surriscalda sony sostiene che si potrebbe surriscaldare a 60 programmi al secondo ma nella pratica chi l'ha provata non è riuscita a raggiungere questa condizione ora mi dirai ma qual è questa cosa che t'ha così tanto meravigliato è proprio tutto questo discorso che t'ho fatto finora era abituato a vedere canon e se vuoi anche nikon che producevano macchine estremamente concrete con specifiche magari un tantino sottotono ma estremamente affidabili che non si fermavano praticamente mai professionalmente utilizzabili senza alcuna limitazione se non quelle date appunto dalle specifiche un pochino se vuoi sottotono ora sony faceva esattamente il contrario quando tutti facevano le reflex sony proponeva le slt che magari non avevano alcun senso pratico di esistere ma proponevano delle specifiche particolari che nessun altro utilizzava lo stesso quando sono arrivati i primi autofocus con quantità mostruose di punti sì erano lentissime magari poco precise ma i punti erano tantissimi cioè sony puntava su specifiche che nessun altro poteva avere e magari proponeva dei modelli che di concreto di utilizzabile di affidabile avevano poco ricorderai anche i problemi di surriscaldamento che sony ha praticamente sempre avuto ora mi sembra di vedere queste parti completamente invertite canon ha presentato un esercizio tecnologico come la r5 ma che a sud di anchorage è praticamente inutilizzabile perché si scalda immediatamente se devi registrare clip più lunghe di qualche minuto devi trovarti un'altra soluzione la r6 che per come me la immaginavo doveva essere il modello più concreto più semplice se vuoi da realizzare che ha esattamente lo stesso problema quindi delle macchine che propongono delle specifiche come l'8k in raw che non ha nessun altro ma che canon stessa riesce a registrare con difficoltà perché non ci sono schede così veloci per registrare questo 8k raw e lo stesso montarlo è un'avventura incredibile ma tutto questo al netto del problema del surriscaldamento che a mio avviso tarpa le ali ad un qualunque uso professionale di questo genere di macchina qua invece in casa sony ci troviamo con una macchina estremamente concreta con delle specifiche molto competitive per alcuni aspetti come per esempio la tenuta a iso completamente assurdi ma con una risoluzione molto bassa che limita al 4k che per inciso è probabilmente la risoluzione più alta di cui mai avrai bisogno tutte cose estremamente concrete che hanno ascoltato le necessità in questo caso specifico e in particolare dei videomaker perché ti ripeto questa macchina da un punto di vista fotografico a mio avviso ha un utilizzo estremamente specialistico ma per un videomaker mi sembra un strumento estremamente versatile e che offre tutte quelle cose che abbiamo se vuoi sempre chiesto a sony il menu utilizzabile il touchscreen che funzionasse per tante altre cose il 10 bit 422 l'implementazione dell'h265 abbiamo in più il row a 16 bit in un formato peraltro utilizzabile facilmente per quella che è la post produzione credo che tanto di più a questa macchina non si potesse chiedere insomma questa inversione dei ruoli mi ha meravigliato e anche un po preoccupato perché mi sembra che inneschi una tendenza dove i grandi brand della fotografia stanno in grossa difficoltà e a mio avviso sony ha mostrato i muscoli con una macchina che ha rimandato tantissimo e che mette secondo me un punto definitivo su quella che potrebbe essere uno degli strumenti più versatili per un videomaker aspettiamo come sempre la versione di produzione di questa macchina ma le prove indipendenti e le persone con cui ho potuto parlare per pochi minuti perché questo video lo sto registrando due ore dopo il lancio ufficiale e dunque le informazioni non sono tantissime ma quello che ho visto lascia molto molto ben sperare seguimi su instagram perché almeno tre volte a settimana pubblico una foto e ti racconto la storia che ha portato alla realizzazione di quello scatto mi trovi come video zappo così come su tutti gli altri social non tenere tutte queste informazioni per te e condividi questo video ci vediamo venerdì